ok non so quanto manca perché ok bello è già iniziata dalla picciotti sono narciso benvenuti in questo nuovo video siamo insieme a green metal bender nei survival game di spam pvp ok e io vado bello andando jammy itano proprio bello che schifo dov'è il tizio ok bravo tieni questo ah ok certo intelligente intelligente lui è abbastanza tieni questi qua ci stanno altri player però non giocbita io quindi un attimino sentiamo eh un secondo me lo chilo io stesso faccio se ce la fai ok ce l'ha fatta dai eh sì però se ora scappa vai ti busto rallento un attimo ti do un pugno eh belli gli fps belli gli fps mamma mia quanti che stai facendo ora? 40 ma che schifo perché è molto divertente fare 40 frame ah è un po' una seccatura perché non riesce a giocare non riesce a capire nulla madonna questo qua come dry yard senti lasciamo stare questo tizio si andiamo un po' adesso qua aspetta vediamo come ho messo ah ha una rod il tizio però qua eh attento perché è l'altro eh oddio lo killi? si il lato ah attento sento sento aiuto aiutami bravo bella io non c'ho vita mezzo cuore se no ho una gapple gapple un attimo che mi chiamano quando dobbia belli eh ok nice pubblicità immagino? esatto eh infatti immagino la rod ce l'hai? no allora tieni prendila tu hai una spada in iron? no in iron, in stone scusa ok va bene di sta roba se ti serve qualcosa no assolutamente niente eh posso craftare una spada in iron? ok allora andiamoci così abbiamo dai potersi che lo vinciamo sto game si 9 fps che schifo ma io penso che vedrò tutto nel video tipo tutto a scatti cioè non so se tu noti che io vado tipo a scatti madonna mi ha dato a me? ah no spada di pietra ok no niente sto scherzando fattiva spada si già l'ho fatta no è che sto facendo qua per fps ah ok ok vediamo dai stacco e riattacco eh fa davvero un pochino rispetto mh anche siamo in sette comunque posso presa qualcuno non mi pare ma ho buttato la rod da qualche porto te lo dò da te no l'ho data a me ok scusate la ritorno no no tranquillo tranquillo piccolo lapsus ho avuto ok tanto lo devi vincere hai un hai un coso un lingotto in iron no no boh tieni qua il tanto un po' di cibo se ce l'hai oh tieni tieni qua tieni qua belli a 13 fps nice divertente ed ecco come è Narciso posso la voglia di registrare per sembrare ed ecco come è Narciso improvvisamente gli veni la voglia di quittare no no dai siamo lì per dire più o meno un like ragazzi un like per Narciso per sostenerlo per non farmi quittare no tranquillo no siamo lì raccoglieremo tutti quanti una piccola somma per comprarti un pc decente come regalo di promozione come ho detto prima frecce non vedevo frecce da non so quanto se vuoi te lo hai detto se non ho un arco no tanto non ho un arco quindi è inutile ah ok a posto siamo allora la roda ce l'hai tu sì ok per te siamo rimasti in sei siamo rimasti in questo game oh tieni tieni forse l'ho ripreso non lo so però sempre sono cose scarse ci vorrebbero polli arrostiti e brush hole a trovarli vediamo qua ancora per i refill ci vuole un sacco quindi eh no ti sconsiglio di buttarti guarda se c'è uno sai non so no no stavo scherzando stavo scherzando no no meglio poi non buttarsi mi era sembrato di vedere tipo una cosa nera ho detto cos'è ah però what what cosa nera si tipo una specie di striscia nera che si vedeva allora ok qua ci sta una cassa di uno bello bello anche tu biscotti nice andiamo avanti a biscotti andiamo avanti a biscotti nella speranza che madò bello il lag che ci porti una fortuna fammi vedere un secondo una cosa nelle impostazioni comandi ok l'inserita 30 non capivo perché mi andava lento non sa niente tutto a posto ok un arco bello vuoi tu? io direi di avvicinarci il centro lo sai perché c'è refill tra si prendo l'ultima cassa e andiamo oh un diamante e tu come tieni qua e questo qua andiamo verso il centro allora aspetta aspetta avevi i pantaloni in gold? no si se vuoi ho no 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 ho pese tuoi avevi quelli in gold se vuoi una capo lo metti se vuoi tenerla tu ci sto registrando no no se vuoi no no attendila attendila c'è uno c'è uno c'è uno attento 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 spadiglia oh ok bravo l'ho chillato io si no vediamo si l'hai chillato tu ok boh col fatto che ho la gialla si è chillata ah qua ci sta un arco piglialo e inoltre tieni anche due diamanti perfetto da dire che possiamo allora andare al centro ok comunque ragazzi se lo vinciamo lo so è il primo tentativo di registrazione sappiamo che ogni volta vi diciamo così ma è la verità cioè non è che inventiamo tutte le volte al primo lo facciamo sempre mi è narciso inoltre mi sono spangulizzato le stats dato che tipo avevo 4 su 13 mi pare ma col fatto che non riesco a giocare praticamente è impossibile vabbè io me ne ho fatto altamente delle stats sì vabbè anche io però sai come avevo 4 su 14 non mi ricordo quelle che erano ed erano anche delle ottime stats vabbè nel senso che un'altra che ce l'avevi buona sarebbe potuto mantenerla appunto esatto proviamo a giocare come giochi tu ossia senza particelle del cibo tipo sì io gioco senza particelle completamente no io non ci riesco a giocare senza ma io sempre cioè sempre così ho giocato ma perché penso che la chiera è un pochino cioè mi scenderebbe non tengono sui 100 però guarda che le parti qualsiasi fanno tantissimo quindi preferisco beh anche la chat penso anche la chat penso no vabbè la chat secondo me non tanto alla fine cioè non è che è una cosa che si muove oh non ci sta non ci sta nessuno ma ci sono allora mi faccio una spada ok sono full air oh tieni qua eh non ho uno stick me lo dai tieni ok ok l'abbiamo vinto c'è stato di rifiuto appartelato raga appartelato oh madonna sono che poi qua prendilo no no è già solo tienila ok io l'ho due ah ok buono per te madonna tieni qua ok oh 2 dia io no io già ho la spada quindi a posto no largo troppo 6 2 fps 2 madonna l'ho però la chat disattivata non so più che disattivare credimi mingosso sicuro si te lo giuro vabbè no please non scrivere mi puoi vedere una cosa per il video tipo aspetta un attimo che l'attivo allora ah non lo posso vedere perché l'hai scritto prima che io l'attivassi bella quindi raga mi ha insultato malamente e vabbè rip amicizia oh quando comincia sto cosa qua guarda saliamo sopra sto punto eh sì dai tanto alla fine abbiamo preso i fattori al centro quindi anche si possono rubare più cose ormai esatto ah comunque dai vinciamo al primo perchè cioè alla fine abbiamo due apple ciascuno quindi siamo full adesso ci sturano no no non succedeva ah ok eeeh qua sembra non esserci nessuno queste cose qua nel frattempo ti arrivano messaggi a casa come al solito esatto come al solito no no madonna ah... poi uno non deve bestemmiare ma oggi veramente peggio del solito devo evitare le UHC sì sì ti consiglio di tipo assolutamente editarle per liberarti tutto il vostro game è uno quando è mio amore però non posso ah se devi rispondere a uno velocemente la registrazione ok postic 3 3 allora mmm momenti più sbagliati no mi chiama mai? mi chiama ora in storia se io non capisco tipo come fanno i player che registrano con 20 frame c'è masochismo proprio livello 100 ovviamente vabbè per lo meno ogni tanto ci arrivo anche a 50 ed è fluido no ma io comunque è bravo nel senso te la cari molto meglio di me anche con gli FQ sì sì se avessi un computer veramente buono ci faresti veramente stragi secondo me no comunque la c'è un'altra cassa prendila sì sì ho preso il tempo perfetto io ho preso il tempo ok ci sta una cassa niente non ho fatto assolutamente nulla un lingotto in gold ecco ecco una volta che ho sentito un suo ok sei tu per favore per fortuna sì 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 sono io una volta che non ho risposto al cellulare ovviamente mi stanno chiamando al telefono di casa perché pensano un po' che sono morto che sono svenuto mi chiamo ora anche al telefono di cassa quindi ora che io non sto rispondendo oh mio dio mio figlio no spieghiamoci a vincere questa partita perché ah ma manca un minuto tipo al teleport finale ha fatto notte ha fatto come è solito come quella volta scurau scurau come quella volta io non lo prendo danno perché largo nice meno 4 cuori mamma tranquilla ora vengo mamma tranquilla mamma tranquilla boh mi faccio un po' quante frecce hai? 5 5? 5? toh tini qua e ti puto ne avrai 50 53 ma che cosa? ma ti dov'è dirci? 53 vado ok una roba una roba la spain e bad lion c'è una differenza in umano eh a voi su bad lion tipo in tutto ti fai 10 frecce se ti va bene invece su spain pvp ti fai blocchi assurdi e se tipo ne hai già 20 nei bad lion sei tipo un god si a voglia un po' spammi fino a farlo morire perché gli altri non ne hanno quindi comunque boh se dovessimo vincere sto game diciamo mi scuso per la qualità pessima ma stai chiamando di nuovo dai vabbè rispondi dai stai sentendo anche te eh no perchè mi piace tutto ah ok vabbè metti muto poi la tagliamo la parte no perchè c'è un micrattaschermo intero quindi niente niente madre aspetta mamma aspetta ti prego madre di green aspetta preoccuparti sono vivo sono vivo no ma questo mi dice si sfanquilizza il mouse ogni tanto si sfanquilizza il mouse bella siamo al dm devo dire che non abbiamo vinto ora dov'è che era l'entrata a sto posto forse l'ho trovato comunque da questo video abbiamo capito che mamma mia mi è morta la voce rip da questo video possiamo ben capire che se non ne edito praticamente le UHC poi succede sto bordello qua quindi meglio che mi dia una mossa vivi sereno billizzo billizzo sai italiano può essere che italiano mi sta facendo timbo poverino preghetto? si io preghetto io pure sai com'è io largo eh esatto spammiamolo spammiamolo tanto abbiamo tipo 150 frecce quante ne abbiamo bello io largo madonna io l'ho spregata la gheppola adesso capace tipo ciara poi capace tipo è il peggio pro della madonna ti immagini non l'ho preso ancora manco una volta preso preso tu facci di bow clicciato di spada preso 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 rip rip io sono tutti i cuori di bow vabbè dai ti faccio vincere visto che la devi caricare no 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 giocala dai ma se poi perdi non la carichi è un bestic no 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 dai prima prima che non la carichi poi certo male voi quella carichi ma dai dai madonna madonna oddio giocare con 30 play madonna oddio no l'acqua aspetta ok dai non capisco che cosa preghetto preghetto dai preghetto no ok ok devo un favore allora eh ragazzi io vi saluto se vado a chiamare mia mamma vi devo un favore raga vi devo un favore vi saluto dai può darsi che la carichi anche io non ne sono sicuro comunque vi saluto appunto scusate mi devo andare da me dai miei trend fps devo andare a editare le UHC e tutto saluta green per l'ultima volta ciao bella a tutti bella e becco alla prossima ciao ciao a tutti